E' una sensazione strana che sale su dal basso, è una bottom up sensation La pancia è leggera? Ma il cuore? Il cuore è leggero come mi scrivessi tu mentre eri No, io ti ho scritto la pancia si è alleggerita ma il cuore quanto peso ha guadagnato Il cuore quanto peso ha guadagnato? Molto Che sfudoratezza Che sfudoratezza JJ! Come dire? Non mi ricordo sfudoratezza Che sfudoratezza Citato da Lorenzo Maino I Ieri sera pensavo di chiamare quel bastard di levare quel video da YouTube Ho scritto, ho scritto, ho scritto il mio nome su Google e viene fuori così Com'era? Chi è il? Il presidente dell'Associazione No, no, la domanda Che cos'è per te il? Il segretario dell'Associazione No, no, che? La domanda è iniziale La domanda è iniziale Ah, il Milano Film Peresio Che cos'era per te il? Il design... Com'era il? Il design director Art director L'art director Guarda che ho la tua memoria Cosa per te l'art director? Cosa per me l'art director? Io l'art director? Ehm... Ma ormai l'ho visto la... Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Infatti devo fare la sedia di tutte queste cose Qua ti devo chiamare Mr. Tutor Che è l'uomo su YouTube Che l'ha messo lì Mr. Tutor Ma se se la mangia Buono, Gabby, buono Sì, perché se cerchi il mio nome Mi vuole quella roba Quando scrivi Lorenzo Maino, sì Attenzione Attenzione Se vai su YouTube Se vai su YouPorn Invece escono altre cose di Lorenzo Maino Thailandia Sì, sì Cile, weona Due gay Due gay che si incula In ciù paviene Vai Lullà, fai un po' l'art director Ma Ma Mani sporche E volevo mangiare ancora due cosine Allora lo fa il marchus l'art director No, anche io Eh, allora la mettiamo via Insomma, no Volevo...